cari amici buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il libro dell'Apocalisse. Ormai ci siamo lasciati alle spalle il fulco centrale dell'Apocalisse, sul quale ci siamo soffermati per diverse puntate, capitoli dal 12 al 14, e ci volgiamo verso la fine del libro. Questa sera esamineremo sia il capitolo 15 che il capitolo 16, parleremo delle ultime sette piaghe che si riverseranno sulla Terra prima del ritorno di Gesù. Ricordo a tutti che è possibile scaricare le note dalla pagina della serie sul sito di Live Channel e anche fare domande al numero che poi successivamente comparirà in sovraimpressione. Senza perdere altro tempo, abbiamo molto materiale da coprire questa sera, vi invito a chinare il capo insieme a me per una preghiera. Caro Padre, veniamo davanti a te, non siamo degni, ma siamo degni nel nome di Gesù, siamo degni in virtù della sua intercessione, il nostro favore, e allora veniamo con piena fiducia, sapendo che tu ci vuoi accogliere, sapendo che tu ci ami, sapendo che tu ci vuoi salvare eternamente, e che tu hai fatto e farai ogni cosa in tuo potere per averci con te nel tuo regno. Ti ringraziamo per questo. Questa sera disanneremo alcune pagine forti della scrittura dell'Apocalisse e io ti chiedo che anche in queste pagine possano vedere Gesù, il suo carattere rivelato, come un Dio di misericordia, ma anche un Dio di giustizia. E per questo ti chiedo che tu possa toccare le mie labbra con un carbone proveniente dal tuo altare e che tu possa rimanere con tutti coloro che stanno ascoltando o ascolteranno in futuro. Parlaci direttamente. Solo tu puoi farlo, Padre, e noi confidiamo che tu vuoi farlo e hai potere di farlo. Ti ringraziamo già in anticipo, non perché lo meritiamo, ma perché ti abbiamo chiesto ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Questa sera, come detto, esamineremo le ultime sette piaghe che si riverseranno sul mondo prima del ritorno di Gesù. E quindi capitoli 15 e 16 dell'Apocalisse. Il capitolo 15 è un'introduzione alle ultime sette piaghe. Abbiamo visto che nella prima parte dell'Apocalisse ci sono tre serie di sette, le sette chiese, i sette sigilli e le sette trombe, e ciascuna di queste serie di sette ha una scena introduttiva. Anche qui non si fa eccezione, è l'unica serie di sette che abbiamo nella parte scatologica dell'Apocalisse, ma anche qui abbiamo una scena introduttiva che è proprio il capitolo 15. E poi le sette piaghe le vedremo al capitolo 16. Le ultime sette piaghe culminano con la settima piaga che vedrà anche il ritorno di Gesù. Vediamo che il capitolo 15, quindi la scena introduttiva delle ultime sette piaghe, si apre con una scena di vittoria, così come si era aperto il capitolo 14 con una scena di vittoria, con i 144.000 che erano in piedi sul monte Sion insieme a Gesù. E anche in questo caso troviamo una scena con i 144.000 che sono già al sicuro in cielo sul mare di vetro. Quindi si apre con questa immagine di vittoria il capitolo, però poi torna indietro nel tempo, alla chiusura del tempo di grazia e alle ultime sette piaghe. Leggiamo il versetto 1 del capitolo 15, Apocalisse 15, 1. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che avevano le ultime sette piaghe perché con esse si compie l'ira di Dio. Le ultime sette piaghe rappresentano i giudizi finali di Dio sul mondo prima del ritorno di Gesù. Sono definite ultime, ultime piaghe, perché non sono state le prime nella storia, non sono state le uniche nella storia. Vi ricorderete probabilmente che Dio mandò dieci piaghe in Egitto prima della liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù. E queste piaghe, le ultime piaghe, sono sette. Sette nella scrittura è un numero che indica completezza. E infatti è scritto perché con esse, con le ultime sette piaghe, si compie l'ira di Dio. E considerando i capitoli 15 e 16 insieme, come vedremo, le ultime sette piaghe capiremo che cadranno dopo la chiusura del tempo di grazia. Sono le ultime sette piaghe anche per un'altra ragione. Delle dieci piaghe d'Egitto, le ultime sette cadero solo sugli egiziani, ma non toccarono i figli di Israele che abitavano nella terra di Goshen. E quindi le ultime sette piaghe della storia umana, allo stesso modo non toccheranno i 144.000, ma saranno riversate su Babilonia spirituale. Infatti al capitolo 18 sono definite le sue piaghe, le piaghe di Babilonia. E in quel momento, alla chiusura del tempo di grazia, Babilonia spirituale comprenderà ormai tutto il mondo. E tranne ovviamente il popolo di Dio, che in quel momento coinciderà con i 144.000. Andiamo adesso a leggere questa scena introduttiva. Apocalisse 15, dal 2 al 4. E vidi come un mare di vetro misto a fuoco, e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Essi avevano le cetre di Dio. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo Grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veraci sono le tue vie, o re dei santi. Chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, certo tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Questo è un interludio, proprio come abbiamo visto nei primi versetti del capitolo 14. Anche qui, in questa introduzione, abbiamo i 144.000 che sono al sicuro in cielo, avendo ottenuto, dice, la vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul marchio della bestia. Giovanni li vide sul mare di vetro misto a fuoco, che dal capitolo 4 sappiamo essere davanti al trono di Dio. Avevano delle cetre e cantavano, proprio come erano stati descritti anche al capitolo 14, cantavano un nuovo cantico, dice il capitolo 14, mentre qui viene detto che cantano il cantico di Mosè e il cantico dell'agnello. Mosè compose questo cantico sull'altra sponda del Mar Rosso, dopo la grande liberazione di Dio, quando li aveva liberati una volta per tutte dagli egiziani. E sapete, l'esperienza di 144.000 ha diversi paralleli proprio con la liberazione di Israele dall'Egitto, e li vediamo subito. L'Egitto subì i giudizi di Dio nelle dieci piaghe, poi Israele fu protetto durante le piaghe, gli israeliti furono inseguiti dagli egiziani a un certo punto e gridarono a Dio per essere liberati. Dio liberò gli israeliti in modo miracoloso, aprendo il Mar Rosso davanti a loro, e poi uccise gli egiziani richiudendo il Mar Rosso dietro agli israeliti. E quindi gli israeliti si ritrovarono sull'altra sponda del Mar Rosso per sempre al sicuro dagli egiziani e lodarono Dio. Allo stesso modo il mondo avrà subito i giudizi di Dio nelle ultime sette piaghe. E il popolo di Dio, 144.000 in quell'epoca, saranno stati protetti dalle ultime sette piaghe. Anche loro saranno stati inseguiti dai loro nemici che avranno cercato di ucciderli. Anche i 144.000 avranno gridato a Dio per ricevere liberazione e saranno stati liberati miracolosamente perché il ritorno di Gesù li avrà liberati per sempre dai nemici che cercavano di ucciderli. E anche loro li troviamo qui, sul mare di vetro, eternamente al sicuro dai loro nemici. E qui 144.000 lo deranno a Dio con un cantico. Il cantico interessante contiene tutte le parole chiave che abbiamo trovato nel messaggio del primo angelo. Ve lo rileggo, dice, chi non ti temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome? Poiché tu solo sei santo, certo tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Troviamo il timore di Dio, il dare gloria a Dio, il tema del giudizio e anche l'adorazione. Sono tutti gli elementi che troviamo in Apocalisse 14,7 nel messaggio del primo angelo. I canti sono un simbolo di esperienza e quindi questo cantico ci fa intuire che i 144.000 avevano veramente sperimentato l'Evangelo Eterno, il messaggio del primo angelo. E qui i 144.000 riconosceranno la giustizia di Dio in tutte le sue vie. Dice, giuste e veraci sono le tue vie, o re dei santi. Riconosceranno la giustizia di Dio nell'aver gestito come avrà gestito il problema del male, nel conflitto tra il bene e il male. Andiamo avanti con la scena successiva, i versetti dal 5 all'8. Apocalisse 15, dal 5 all'8. E dopo queste cose io vidi, ed ecco aprirsi nel cielo, il tempio del tabernacolo della testimonianza. E i sette angeli che avevano le sette piaghe uscirono dal tempio vestiti di lino puro e risplendente e cinti intorno al petto di cinture d'oro. E uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene dell'ira di Dio che vive nei secoli dei secoli. E il tempio fu un ripieno di fumo procedente dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. E nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli. Questa scena ci parla della chiusura del tempo di grazia, quando gli angeli usciranno dal tempio, dal santuario celeste, con le sette coppe per colpire la terra con le ultime sette piaghe. Giovanni vide il santuario celeste aperto ancora una volta, lo aveva visto l'ultima volta aperto al capitolo undici. Il luogo santissimo era aperto agli occhi di Giovanni, contemplò l'arca del patto che è lì contenuta. E qui troviamo ancora il santuario celeste che viene aperto nell'Apocalisse. E questa scena avviene, l'abbiamo detto, alla chiusura del tempo di grazia. Ci sono dei paralleli ovviamente tra il giudizio che è in corso in cielo in questo momento e il giorno dell'espiazione che veniva celebrato nel santuario terreno dagli israeliti. Ne abbiamo parlato brevemente quando abbiamo analizzato il messaggio del primo angelo in Apocalisse 14. Nel giorno dell'espiazione, il sommo sacerdote, l'unica volta all'anno che poteva entrare nel luogo santissimo per compiere un'opera di purificazione. Veniva purificato il santuario terreno, ma veniva purificato anche il popolo di Israele. Quando concludeva la sua opera di mediazione, usciva dal santuario un'ultima volta, e metteva le sue mani su Azazel, che era un capro che era stato scelto a sorte per morire da solo nel deserto. Allo stesso modo, nel 1844, una volta soltanto nella storia della redenzione, Gesù è entrato nel luogo santissimo del santuario celeste come nostro sommo sacerdote per compiere un'opera di giudizio. E quando quest'opera di giudizio sarà conclusa, Gesù uscirà un'ultima volta dal santuario celeste e il tempo di grazia si chiuderà. E poi la parte del capro Azazel, ovviamente quando tornerà, Azazel nel giorno dell'espiazione rappresentava Satana. Gesù imporrà le sue mani su Satana, trasferirà su di lui tutte le colpe dei peccati che ha fatto compiere al popolo di Dio. Satana pagherà anche per esse. E rileggo il versetto 8, Apocalisse 15, 8. E il Tempio fu ripieno di fumo procedente dalla gloria di Dio e dalla sua potenza, e nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli. Quindi, la gloria di Dio riempirà il santuario, il santuario celeste. Giovanni vede questa immagine, il Tempio ripieno di fumo. Isaia vide la stessa scena in Isaia capitolo 6. Vide Dio seduto sul trono e sentì gli angeli cantare Santo, 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 e li sentì cantare che la terra era piena della gloria dell'Eterno. E allo stesso modo leggiamo in Apocalisse 18, versetto 1, lo vedremo nel prossimo incontro, che la terra sarà illuminata dalla gloria di Dio. La terra sarà illuminata dalla gloria di Dio, cioè dal carattere di Dio, tramite la predicazione del messaggio dei tre angeli sotto la potenza dello Spirito Santo. E Isaia successivamente vide il Tempio pieno di fumo, proprio come Giovanni qui in Apocalisse 15. Nell'Antico Testamento troviamo due occasioni nelle quali il Tempio fu ripieno di fumo e della gloria di Dio. Questo accade all'inaugurazione del santuario nel deserto, al tempo di Mosè, ma accade anche l'inaugurazione del Tempio di Salomone secoli dopo. Quindi nelle due inaugurazioni dei due santuari, quello di Mosè e quello di Salomone, Dio scese e manifestò la sua presenza in modo visibile, riempiendo il Tempio con la sua gloria e di fumo. E nel primo episodio, nell'inaugurazione del santuario del deserto, è detto che Mosè non fu in grado di entrare nel santuario fino a che c'era il fumo. E la stessa cosa viene detta per l'inaugurazione del Tempio di Salomone, cioè che i sacerdoti non furono in grado di entrare nel santuario, nel Tempio, fino a che c'era lì il fumo. Oggi noi credenti possiamo, attraverso il ministero sacerdotale di Gesù, entrare per fede nel santuario celeste e presentarci davanti alla presenza di Dio. Questo viene chiaramente insegnato nell'Epistola e l'Ebrea, capitolo 4, capitolo 6 e capitolo 10. Ma alla chiesura del Tempo di Grazia, quando l'intercessione di Gesù si concluderà, nessuno potrà presentarsi davanti a Dio per avere i suoi peccati perdonati. Questo non significa che in quel momento Gesù abbandonerà i 144.000 a loro stessi, ma continuerà a dimorare dentro di loro per tutto il tempo delle ultime sette piaghe. C'è un altro passaggio nell'Apocalisse che ci parla della chiusura del Tempo di Grazia e vorrei focalizzarmi qualche istante proprio su questo passaggio è molto molto interessante. Lo troviamo in Apocalisse 22, i versetti 11 e 12. Dice così, chi è ingiusto continui a essere ingiusto, chi è immondo continui a essere immondo, chi è giusto continui a praticare la giustizia e chi è santo continui a santificarsi. Ecco io vengo presto e il mio premio è con me per rendere ad ognuno secondo ciò che sarà l'opera sua. Queste sono parole di Gesù, e questa dichiarazione di Gesù risuonerà al tempo di grazia, alla chiusura, scusate, del Tempo di Grazia. E se così non fosse, cioè se questa dichiarazione non fosse posta alla chiusura del Tempo di Grazia sarebbe un po' problematica, perché qui Gesù dice agli ingiusti di continuare a essere ingiusti, di continuare nella loro ingiustizia. Vedete questa affermazione di Gesù non è un'esortazione, non è che Gesù sta incoraggiando gli ingiusti a continuare nell'ingiustizia, ma questa affermazione è semplicemente una fotografia, è un'istantanea della condizione del mondo al tempo della chiusura del Tempo di Grazia. Quindi il mondo sarà così, sarà diviso in due, polarizzato, quando il Tempo di Grazia si chiuderà. Lo abbiamo detto quando abbiamo studiato il Messaggio dei Tre Angeli. A causa della predicazione del Messaggio dei Tre Angeli ogni persona vivente dell'ultima generazione doveva prendere una decisione per Dio o contro Dio e sarà una decisione finale, senza più tornare indietro, nel bene e nel male. Vedete, Dio non sarà arbitrario nel chiudere il Tempo di Grazia. Ci sono tante persone che sono state spaventate, penso, da questo insegnamento della chiusura del Tempo di Grazia, pensando forse che a un certo punto della storia Dio si stuferà e dirà ora basta, non sarò più misericordioso da ora in poi, ognuno pagherà per i suoi peccati, non perderò più nessuno. Mi sono stancato, mi sono stufato, avete peccato troppo? No, 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 no. La Bibbia non ci insegna questo sulla chiusura del Tempo di Grazia. Dio non chiuderà il Tempo di Grazia finché ci sarà ancora speranza di salvezza, anche solo per un singolo peccatore. Nessuno nel giudizio potrà dire un giorno a Dio, ah se avesse aspettato un po' di tempo in più a chiudere il Tempo di Grazia io mi sarei pentito e mi sarei convertito, mi sarei salvato, è colpa tua se non mi sono salvato. No, 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 no. Nessuno sarà in grado di dire una cosa simile a Dio. L'intercessione di Cristo non finirà perché Egli cambierà carattere e cesserà di punto in bianco di essere misericordioso. Lo abbiamo detto, non si stuferà di perdonare i peccati. L'intercessione ora è necessaria a motivo del peccato, ma Gesù cesserà di intercedere quando la sua intercessione non sarà più necessaria. Quindi non perché in un dato momento della storia arbitrariamente deciderà, ok, da ora in poi basta, perché Gesù cesserà di essere misericordioso. Niente di più falso. Gesù cesserà la sua intercessione quando non sarà più necessaria. Questo è un punto molto importante e forse servirà questa sera ad alleviare il cuore di qualcuno da un peso. Che cosa succederà al momento della chiusura del tempo di grazia? I 144.000 avranno ottenuto la vittoria completa sul peccato avendo preso la decisione definitiva di morire piuttosto che pecare contro Dio. Non torneranno più indietro dalla decisione di seguire Gesù a qualunque costo, anche a costo di perdere la vita. Ma dall'altra parte nessuno degli ingiusti, anche se il tempo di grazia fosse prolungato, tornerà sui suoi passi e si convertirà. E voglio leggervi un testo dall'Apostolo Pietro, la seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 9, e credo che questo testo faccia luce sulla chiusura del tempo di grazia. Lasciatemelo leggere, poi vi spiego in che senso. Pietro scrisse, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Potreste dire alleluia per questo testo, il Signore è paziente verso tutti perché vuole che tutti vengano al ravvedimento, che vuole che tutti possano pentirsi, convertirsi ed essere salvati. Il Signore sta aspettando che i peccatori si pentano e si convertano. E quindi in che modo questo testo ci fa luce sulla chiusura del tempo di grazia? Abbiamo visto che Gesù aspetterà per chiunque, per cui, per ogni persona per la quale ci sarà ancora speranza di salvezza. E allora si potrebbe pensare che se Gesù deve aspettare che tutti prendano una decisione, non volendo che alcuno perisca, allora Gesù aspetterà in eterno e non tornerà mai perché ci sarà sempre qualcun altro da aspettare perché si penta e si converta. Questo però non è un ragionamento corretto, non è quello che il testo implica. Gesù non dovrà attendere un tempo infinito, Gesù ritornerà, ma allo stesso tempo essendo fedele a questo testo, aspettando che tutti vengano al ravvedimento. In che modo? Credo che il testo di Pietro che abbiamo appena letto ci suggerisca che arriverà nella storia il momento nel quale il numero dei salvati sarà completo. In altre parole, Gesù chiuderà il tempo di grazia quando il numero dei salvati sarà completo, quando lui vedrà che anche se dovesse prolungare il tempo di grazia per un altro mese, per un altro anno, per altri dieci anni, non cambierebbe la situazione. Nessuno degli ingiusti si convertirebbe più. E infatti voglio suggerirvi questa sera che degli ingiusti viventi al ritorno di Gesù, tutti gli ingiusti che saranno viventi al ritorno di Gesù, a un certo punto della loro esperienza avranno commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo e cioè continueranno a essere ingiusti fino al ritorno di Gesù, proprio come Gesù aveva detto qui in Apocalisse 22, versetto 11. E quindi la chiusura del tempo di grazia semplicemente avverrà perché Gesù vedrà che la sua intercessione sarebbe inutile prolungarla perché i 144.000 non avranno più peccati da mandare nel santuario celeste perché vengano perdonati, perché avranno deciso di morire piuttosto che peccare, ma dall'altra parte degli ingiusti nessuno si convertirebbe anche se questo tempo fosse prolungato. E allora Gesù chiuderà l'opera del giudizio, chiuderà il giudizio investigativo, intendo la prima fase del giudizio di Dio, e chiuderà anche il tempo di grazia. Non ci sarà più bisogno di intercessione. E da lì in poi cadranno le ultime sette piaghe. Andiamo a leggere adesso in Apocalisse 16. Prima di iniziare a leggere il testo noterete che ci sono paralleli tra le sette trombe e le sette piaghe. Infatti sono proprio parallele, sono elementi corrispondenti nella struttura chiastica dell'Apocalisse. Se vi ricordate ne abbiamo parlato nell'incontro introduttivo. E quindi avete qui due elenchi puntati nelle vostre note, le sette trombe. Trovate gli stessi elementi precisi nelle ultime sette coppe, le sette piaghe. Prima tromba, prima piaga. Seconda tromba, seconda piaga. Sono corrispondenti. Nel senso del linguaggio, degli elementi che trovate. Non che abbiano lo stesso significato. Le trombe le abbiamo già piazzate nella storia quando le abbiamo studiate. Invece le piaghe sono ancora nel nostro futuro. E per chi forse se lo stesse chiedendo, il coronavirus non è una delle ultime sette piaghe. Perché queste cadranno, lo vedremo chiaramente, dopo la chiusura del tempo di grazia. E evidentemente il tempo di grazia non si è ancora concluso perché si concluderà dopo che sarà imposta l'osservanza della domenica, sarà imposto il marchio della bestia. Leggiamo adesso Apocalisse 16, versetto 1. Poi udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le coppe dell'ira di Dio. Quindi l'ultimo versetto del capitolo 15 ci descrive la chiusura del tempo di grazia e il primo versetto del capitolo 16 è il comando di versare le piaghe sulla terra. Le piaghe vengono solo dopo la chiusura del tempo di grazia. Le piaghe rappresentano l'ira di Dio che non è mescolata con la sua misericordia, versata pura nel calice della sua ira, o l'abbiamo letto nel messaggio del terzo angelo di Apocalisse 14, nello scorso incontro. Quindi il tempo di distretta o di tribolazione che inizierà alla fine del tempo di grazia è definito da Daniele 12 un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. Non per la sua durata, perché io penso che sarà molto breve, ma per la sua intensità. Dice il capitolo 15, l'abbiamo letto, con le ultime sette piaghe si compie l'ira di Dio, sarà riversata pura, senza essere mescolata con la sua misericordia. Vedete, nella storia i giudizi di Dio sono sempre stati mitigati dalla sua misericordia, ma non sarà così nelle ultime sette piaghe. Abbiamo visto nelle sette trombe i giudizi di Dio contro il cristianesimo apostata nell'impero romano d'occidente prima, le prime quattro trombe, e la quinta e la tromba nell'impero romano d'oriente. E queste trombe erano un avvertimento di ciò che il mondo intero avrebbe subito se fosse caduto in apostasia. I giudizi delle trombe erano stati mitigati dalla misericordia di Dio e avevano uno scopo redentivo, lo abbiamo visto studiando le trombe, che quando i giudizi di Dio sono manifestati sulla terra, gli abitanti della terra imparano la giustizia, questo è Isaia 26. E quindi lo scopo di Dio era portare persone infedeli al pentimento, ma lo scopo delle ultime sette piaghe non è redentivo. È molto importante questa distinzione, è diverso. Sono i giudizi finali di Dio contro l'apostasia nella quale il mondo intero sarà caduto in quel momento della storia, perché dice Apocalisse 13 che tutto il mondo si meraviglierà dietro alla bestia. E il mondo sarà caduto in apostasia nonostante la predicazione del messaggio dei tre angeli nella potenza dello Spirito Santo. Perché Dio manderà le ultime sette piaghe? C'è di più, vedete. Tramite le ultime sette piaghe Dio mostrerà che nessun giudizio sarà efficace in quel momento per far pentire l'ultima generazione di ingiusti. Dio mostrerà con le ultime sette piaghe, diventerà chiaro mentre leggeremo il testo, che non avrebbe potuto fare niente di più per salvare l'ultima generazione di ingiusti. Adesso esaminiamo la prima piaga, Apocalisse 16, versetto 2. Quindi la prima piaga, come anche il resto delle ultime sette piaghe, cadrà su coloro che avranno ricevuto il marchio della bestia. Il testo è chiarissimo. Quindi questi saranno coloro che avranno rifiutato il messaggio del terzo angelo, che era un avvertimento a non ricevere il marchio della bestia. Coloro che avranno rifiutato questo avvertimento saranno colpiti dalle piaghe e i 144.000 saranno al riparo dalle ultime sette piaghe, perché dice, lo abbiamo letto nell'introduzione al capitolo 15, avranno ottenuto la vittoria sulla bestia, sulla sua immagine e sul suo marchio e sul numero del suo nome. Cioè non avranno ricevuto il marchio della bestia e per cui le piaghe non cadranno su di loro, perché il testo dice chiaramente cadranno solo su coloro che avranno ricevuto il marchio della bestia e che avranno adorato la sua immagine. È chiaro che il popolo di Dio, i 144.000 a quel punto, saranno risparmiati dalle ultime sette piaghe? La prima piaga sarà un'ulcera dolorosa e Dio colpì l'Egitto con una simile piaga e nel caso degli egiziani Dio li colpì nei loro corpi perché avevano usato violenza fisica contro i loro schiavi, gli israeliti. Tramite le dieci piaghe Dio voleva insegnare qualcosa agli egiziani. Diverse delle piaghe erano connesse a delle entità che gli egiziani adoravano e ogni piaga avrebbe dovuto insegnare agli egiziani la vanità della loro idolatria. Nella prima delle ultime sette piaghe le ulceri verranno su coloro che avranno perseguitato il popolo di Dio nella crisi finale del marchio della bestia. Avranno preso il marchio della bestia pensando di essere fisicamente al sicuro ricevendo il marchio. E invece il popolo di Dio dall'altra parte avrà messo a repentaglio la propria sicurezza terrena rifiutando di ricevere il marchio della bestia. E perciò durante la prima piaga gli ingiusti saranno colpiti, quelli che avevano pensato di rimanere al sicuro fisicamente. Mentre 144.000 che avranno messo a repentaglio la loro sicurezza fisica a motivo della loro fede, quelli saranno risparmiati. E quindi tramite questa piaga Dio mostrerà che la vera sicurezza fisica è solo in Cristo. Lo voglio ripetere, tramite questa piaga colpendo nel corpo coloro che avranno ricevuto il marchio della bestia, che avranno pensato di essere al sicuro fisicamente, di non essere perseguitati, Dio mostrerà loro che la vera sicurezza fisica si trova solo in Cristo. La seconda piaga, Apocalisse 16, 3. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare ed esso divenne sangue simile a quello di un morto e ogni essere vivente nel mare morì. La seconda piaga cambierà le acque del mare in sangue e dice sangue come quello di un morto e quindi i mari diventeranno probabilmente velenosi, putridi. E Dio colpì l'Egitto con una piaga simile trasformando le acque del fiume Nilo in sangue e i pesci nel Nilo morirono. E quindi le creature dei mari moriranno durante la seconda piaga. Provate a immaginare cosa succederà a coloro che vivono di pesca. Quindi questa piaga non sarà solo un disastro ambientale ma sarà anche un disastro dal punto di vista economico. Quelli che avranno ricevuto il marchio della bestia avevano pensato di essere economicamente al sicuro ma saranno colpiti da questa piaga. Invece durante la crisi del marchio della bestia il popolo di Dio non aveva potuto né comprare né vendere. Ma durante il tempo della distretta finale ci è detto in Isaia 33 che il loro pane e la loro acqua saranno provveduti da Dio. Quindi tramite questa piaga Dio mostrerà che la vera sicurezza finanziaria si trova solo in Cristo. Nel senso che Cristo provvede secondo i bisogni dei Suoi figli. Non ce l'ha forse promesso nel Sermone sul Monte quando disse cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in più o sopraggiunte. Andiamo avanti con la terza piaga. Apocalisse 16 da 4 a 7. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque ed esse diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva tu sei giusto o Signore che sei e che eri che sei il santo per aver giudicato queste cose poiché essi hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro da bere del sangue perché di questo sono degni. E udì un altro dall'altare che diceva sì o Signore di Onnipotente i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Vediamo quindi che nella terza piaga viene colpita l'acqua potabile, i fiumi e le sorgenti delle acque saranno tramutate in sangue. Anche se qua nel testo non dice che sarà sangue simile a quello di un morto. Però credo che sarà comunque acqua nauseante da bere. E l'angelo dà ragione per questa piaga. Lo dice al versetto 6 perché coloro che avranno ricevuto il marchio della bestia avranno perseguitato il popolo di Dio, l'ultima generazione del popolo di Dio. E dice qua e tu hai dato da loro da bere del sangue perché? Perché hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti. E quindi Dio darà agli ingiusti da bere del sangue perché avevano sparso il sangue del popolo di Dio. E l'angelo dice che i tuoi giudizi sono veraci e giusti. Vediamo la giustizia di Dio qua, che rivendica il suo popolo, punendo coloro che lo avevano perseguitato. La quarta piaga, Apocalisse 16, versetti 8 e 9. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu dato di bruciare gli uomini col fuoco. E gli uomini furono bruciati da grande calore e bestemmiarono il nome di Dio che apotestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. La quarta piaga colpirà il sole che diventerà bruciante per gli uomini. Il grande caldo costringerà la gente a bere le acque nauseanti trasformate in sangue nella piaga precedente. Quindi quasi certamente provate a pensare le acque ma anche il grande caldo influenzeranno anche i raccolti. Probabilmente le persone non soffriranno solo la sete a motivo del grande caldo ma anche la fame. E dice qua il testo che gli ingiusti bestemmeranno il nome di Dio. E questa è la prima di tre ripetizioni in Apocalisse 16 del fatto che gli ingiusti dell'ultima generazione bestemmeranno il nome di Dio sotto le ultime sette piaghe. Quindi non si pentiranno a motivo delle ultime piaghe. Avrebbero dovuto pentirsi prima alla predicazione del messaggio dei tre angeli. Vedete nella storia umana molte persone si sono pentite e sono andate a Cristo o sono tornate a Cristo quando hanno dovuto affrontare prove e sofferenze. Ma l'ultima generazione di malvagi avrà indurito il cuore a tal punto da essere oltre ogni speranza di salvezza. Questa generazione sarà irrimediabilmente indurita nel cuore contro Dio e l'ho detto prima avrà commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo. Non è che Dio si ritira da queste persone, è che queste persone rifiuto dopo rifiuto degli appelli dello Spirito Santo finiranno per essere così dure da non poter più sentire la voce di Dio. E quindi tramite le piaghe Dio mostrerà che i malvagi dell'ultima generazione saranno così induriti che non si pentiranno nemmeno subendo le ultime sette piaghe. Lo abbiamo detto che i giudizi di Dio sono manifestati sulla terra a scopo redentivo nella storia umana perché i peccatori si pentano e si convertono. Quindi Dio manderà dei giudizi così terribili nell'ultima generazione dopo la chiusura del tempo di grazia e in questo modo con le bestemmie di chi non si sarà ancora convertito dimostrerà che non avrebbe potuto fare niente di più per salvarli. Nemmeno sotto questi giudizi così forti si pentono ma anzi continuano a bestemmiare Dio e Dio mostrerà a tutto l'universo non c'è niente di più che io avrei potuto fare per salvarli e quindi Dio mostrerà che aveva avuto ragione a chiudere il tempo di grazia perché vedete gli angeli non possono leggere nella mente degli uomini. Dio chiuderà il tempo di grazia Gesù uscirà dal santuario e non continuerà più a intercedere. E beh qualcuno delle creature celesti potrebbe chiedersi ma perché? È veramente che i malvagi sono oltre ogni speranza di salvezza? Ebbene con le ultime sette piaghe Dio lo dimostrerà. Dimostrerà che aveva avuto ragione a chiudere il tempo di grazia in quel momento che anche sotto l'influsso di questi giudizi così forti nessuno si pentirà. Vuol dire che i malvagi dell'ultima generazione saranno in quel momento della storia oltre ogni speranza di salvezza. E quindi l'ultima generazione di malvagi avrà rifiutato il sabato perché ricordate il test per l'ultima generazione sarà sul sabato. Avranno rifiutato il sabato prendendo il marchio della bestia cioè accettando un falso sabato. Non avranno onorato il creatore così come invitati dal messaggio del primo angelo quindi non avranno onorato il creatore osservando il sabato ma avranno onorato la bestia seguendo un sistema di tradizioni umane osservando la domenica che è il giorno del sole e quindi Dio userà il sole per colpirli perché avranno adorato il giorno del Dio sole Dio userà il sole per colpirli mostrando che la vera adorazione si trova solo in Cristo e nella sua parola. La quinta piaga Apocalisse 16 10 e 11 poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu coperto di tenebre e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore bestemmiarono il Dio del cielo a causa delle loro sofferenze e delle loro ulcere ma non si ravvidero dalle loro opere. Quindi anche la quinta piaga è legata al sole perché in questo caso il sole viene oscurato. Dio colpì l'Egitto con una piaga analoga tenebre soprannaturali. La coppa è versata qui dice sul trono della bestia che ritengo essere Roma la bestia rappresenta il papato quindi il trono della bestia è Roma ma il testo specifica vedete al versetto 10 che il suo regno fu coperto di tenebre e in quel momento della storia il regno della bestia comprenderà tutto il mondo perché lo abbiamo ricordato prima in Apocalisse 13 è detto che tutto il mondo si meraviglierà dietro alla bestia. Quindi Babilonia spirituale in quel momento comprenderà tutto il mondo tranne i 144.000. In qualche modo dice qua che le tenebre causeranno, renderanno le urcire della prima piaga più dolorose. Le persone soffriranno anche per il freddo non avendo la luce del sole e quindi avendo rifiutato la luce della verità proclamata nel messaggio del primo, del secondo e del terzo angelo, gli ingiusti saranno nelle tenebre spirituali perché avranno amato i loro peccati più di Gesù. E così Dio li colpirà con tenebre letterali, fisiche. Le persone avranno cercato luce, illuminazione sul trono della bestia andando rivolgendosi al papato invece che alla parola di Dio e con questa piaga Dio mostrerà che la verità è solo nella parola di Cristo e non nelle tradizioni umane. Se vogliamo essere illuminati, se vogliamo ricevere luce, dobbiamo andare alla parola di Cristo, non ai sistemi umani. E siccome i malvagi bestemmeranno a causa del dolore delle ulcere della prima piaga, qui nella quinta piaga, possiamo dedurre che le piaghe cadranno in rapida successione una dopo l'altra, perché siamo già alla quinta di sette piaghe e ancora in corso la prima piaga. Ma questo ci dice anche qualcos'altro, che le piaghe si aggiungeranno le une alle altre. In altre parole, non è che verrà la prima, poi passerà, verrà la seconda, passerà, verrà la terza. No, 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 no. La prima continuerà, la seconda continuerà, continuerà anche la terza, si sommeranno le une alle altre. Ovviamente con l'eccezione della quarta e della quinta, perché nella quarta il sole brucerà dal caldo, nella quinta il sole sarà oscurato. Ma vedete che la prima piaga, le ulcere, continueranno anche sotto la quinta piaga e quindi sarà un tempo molto breve, cadranno in rapida successione. Non credo che sarà un tempo che durerà anni e anni. Andiamo adesso alla sesta piaga, che è probabilmente quella che tutti state aspettando, che è Armageddon, la battaglia di Armageddon. È la battaglia, è la piaga che ha la descrizione più lunga, insieme alla settima, e l'analizzeremo un pochino più in profondità. Leggiamo adesso Apocalisse 16, versetto 12. «Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sollevante». Vedete, il linguaggio di questo versetto è sicuramente simbolico e attinge dalla caduta di Babilonia letterale nell'Antico Testamento, perché questa piaga illustra come Babilonia spirituale perderà la sua influenza sul mondo. Sono a conoscenza del fatto che molti cristiani credono che la battaglia di Armageddon sarà una battaglia letterale, che sarà combattuta tra forze terrene, le une contro le altre, in Medio Oriente. Credo che la Bibbia dica altro sulla battaglia di Armageddon, e lo vedremo in questo momento. Il linguaggio, lo ripeto, è altamente simbolico, trae dalla caduta di Babilonia letterale, perché questa piaga parla della caduta di Babilonia spirituale. «Sebbene Babilonia sembrasse invincibile, i Medo-Persiani la conquistarono in una singola notte, come? Deviando il corso del fiume Eufrate, così prosciugando, o perlomeno facendo diminuire il livello dell'acqua nel letto del fiume Eufrate, e così i Medo-Persiani marciarono sul letto del fiume dentro la città di Babilonia e la conquistarono in una sola notte, così come era stato profetizzato dal libro di Isaia. E quindi, come il prosciugarsi del fiume Eufrate ha portato alla caduta di Babilonia letterale, così qui il simbolico prosciugarsi del fiume Eufrate porterà alla caduta di Babilonia spirituale. Il fiume Eufrate sosteneva la vita di Babilonia letterale. I babilonesi pensavano che la loro città non potesse essere conquistata perché potevano coltivare all'interno della città, perché le acque delle Eufrate irrigavano la città, scorreva dentro la città. Allo stesso modo, le acque delle Eufrate rappresentano qui in questo testo le nazioni che sostengono Babilonia spirituale. Le acque delle Eufrate sostenevano la vita di Babilonia letterale e qui le acque delle Eufrate rappresentano le nazioni. Abbiamo visto in Apocalisse 17 che le acque rappresentano nazioni, popoli, moltitudini. Quindi qui sostengono Babilonia spirituale. Quindi al capitolo 17 ci vengono dati più dettagli sulla caduta di Babilonia spirituale nella sesta e nella settima piaga. Forse l'avrete notato, in realtà non lo abbiamo ancora esaminato. Il capitolo 17 in sostanza lo abbiamo esaminato in parte quando abbiamo studiato il messaggio del secondo angelo e toccheremo qualcosina questa sera e la prossima volta, ma non avremo un incontro dedicato proprio solo sul capitolo 17. Toccheremo dei punti qua e là. E quindi qua il capitolo 17 in sostanza, voglio dirvi, è come una lente di ingrandimento insieme al capitolo 18 su la sesta e la settima piaga, la caduta finale definitiva di Babilonia spirituale. E quindi vediamo da Apocalisse 17 che Babilonia spirituale subirà una condanna dagli abitanti della terra prima del ritorno di Gesù. Certamente sarà condannata al ritorno di Gesù, ma Gesù la ripagherà del male che ha fatto con gli abitanti stessi della terra che le avevano dato sostegno fino a quel momento. E in Babilonia, in Apocalisse 17 trovate Babilonia spirituale raffigurata dalla grande meretrice che sedeva su molte acque, viene detto, proprio come Babilonia letterale sorgeva sulle acque del fiume Eufrate. E quindi il prosciugamento del fiume Eufrate nella sesta piaga rappresenta il fatto che le nazioni toglieranno il loro supporto al papato e si rivolteranno contro di esso prima, poco prima del ritorno di Gesù. Quindi in Apocalisse 17, lo abbiamo detto, una lente di ingrandimento sulla sesta e la settima piaga, è scritto così, Apocalisse 17, versetto 16. E le dieci corna che hai visto, prima di continuare con la lettura, qualche versetto prima al capitolo 17 è detto che le dieci corna avrebbero dato potere alla bestia. Ma sentite poi cosa succede. Le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice. Prima le avevano dato il potere, poi finiranno per odiarla. La renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. In altre parole, il testo sta parlando di un giudizio che gli abitanti della terra compiranno con le loro stesse mani sul papato. Quindi frustrati dalle piaghe che continueranno a susseguirsi una dopo l'altra senza cessare, gli abitanti della terra finiranno per rivoltarsi contro il papato, nel quale avevano confidato fino a quel momento. Avevano cercato, l'abbiamo detto, luce e consiglio al papato per la grande crisi che colpirà la terra negli ultimi giorni. Ma qua le piaghe non cesseranno di cadere e quindi si renderanno conto dell'inutilità di aver confidato in questo falso sistema umano, che niente può per preservare la loro salute e la loro prosperità economica, visto che le piaghe colpiranno duramente senza che nessuno potrà fermarle. E quindi il prosciugamento del fiume Eufrate permise a Ciro di entrare a Babilonia e di conquistarla. Ciro era stato chiamato per nome da Dio più di un secolo prima della sua nascita dal profeta Isaia. E Dio si riferì a lui in Isaia 44 e 45 a Ciro, chiamandolo il suo pastore e il suo unto. E quindi Dio aveva profetizzato che Ciro avrebbe permesso ai giudei di ritornare in patria dopo l'esilio babilonese. E Ciro fu uno strumento nelle mani di Dio per liberare gli ebrei da Babilonia, per permettere loro di tornare a Gerusalemme e di ricostruire il Tempio e la città. Quindi Ciro, Dio dice al mio pastore, il mio unto è un tipo del Messia, l'unto, il figlio di Dio che doveva venire. E Gesù avrebbe liberato i prigionieri dalle catene del peccato. E qui il versetto 12 dice che il simbolico prosciugamento dell'Eufrate dovrà avvenire per preparare la via dei re che vengono dal sollevante. Ed è evidente il parallelo con la caduta di Babilonia letterale, che è un Ciro. Ciro veniva dal sollevante, cioè dall'oriente, e venne per liberare il popolo di Dio da Babilonia. Così Gesù verrà dall'est, ci viene detto in Matteo 24 che il lampo brilla dal levante a Ponente, e così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E quindi Gesù tornerà quale re dei re e signore dei signori per liberare il suo popolo una volta per tutte dalle mani di Babilonia spirituale. Non è straordinario? Sono evidenti i paralleli qui con Ciro, con Gesù, e la caduta di Babilonia letterale con la caduta di Babilonia spirituale durante le ultime piaghe. Quindi il prosciugamento del fiume Eufrate è decisamente simbolico, linguaggio simbolico nella piaga, nella sesta piaga, nella battaglia di Armageddon. Adesso leggiamo i versetti seguenti che completano il quadro della battaglia di Armageddon. Apocalisse 16, dal 13 al 16. E vedi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a Rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno segni e che vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra di quel gran giorno di Dio Onnipotente. Versetto 15, una parentesi, sono parole di Gesù. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non si vede la sua vergogna. Ed egli li radunò in luogo in ebraico detto Armageddon. Questi versetti menzionano le potenze che condurranno il mondo nella battaglia di Armageddon. Giovanni vide tre spiriti immondi simili a Rane uscire dalla bocca del dragone, simbolo di Satana, della bestia che sale dal mare, che è il simbolo del papato, e del falso profeta che è la bestia che sale dalla terra, cioè gli Stati Uniti d'America. E questi spiriti immondi vengono identificati al versetto 14 come spiriti di demoni. Quindi il simbolo delle Rane anche qui è legato alle piaghe dell'Egitto. Ed è interessante che la piaga delle Rane fu la seconda delle dieci piaghe d'Egitto e fu l'ultima piaga che i maghi egiziani riuscirono a replicare con le loro arti occulte. Poterono replicare la prima piaga, trasformare le acque del Nilo in sangue, poterono replicare la seconda, quella delle Rane, ma dalla terza in poi non poterono più replicarle con le loro arti occulte. E quindi qua vediamo che le Rane sono un chiaro simbolo dell'occultismo, dello spiritismo. Quindi l'ultimo inganno di Satana avrà a che fare con lo spiritismo. E le potenze che userà, il dragone che è Satana stesso, penso sarà proprio lo spiritismo, il papato e gli Stati Uniti d'America, ovvero il protestantesimo apostata negli Stati Uniti d'America. Ne abbiamo parlato al capitolo 13. Queste sono le tre potenze che rappresentano la falsa Trinità, la contraffazione della Trinità. Gli inganni di Satana quindi non verranno solo dal papato, ma anche dal protestantesimo apostata. Il testo qui al versetto 14 è parallelo con Apocalisse 13 quando si parla degli Stati Uniti d'America. Anche qua dice che fanno segni, questi spiriti dei demoni fanno segni, sono segni miracolosi, sono falsi miracoli. Al capitolo 13 era detto che facevano scendere fuoco dal cielo, compivano segni di fronte a tutto il mondo. E quindi questo abbiamo visto che rappresenta falso risveglio, false manifestazioni dello Spirito Santo, falsi miracoli. Quindi le tre Rane rappresentano la contraffazione dell'opera di Dio. È interessante perché abbiamo visto che Satana cerca di fare una contraffazione per ogni cosa che Dio ha di genuino. Abbiamo visto il sigillo di Dio e Satana ha la contraffazione del sigillo di Dio, che è il marchio della bestia. Dio ha un popolo, la donna di Apocalisse 12, anche Satana ha la sua chiesa, la meretrice di Apocalisse 17. E quindi Dio ha un triplice messaggio negli ultimi tempi, il messaggio dei tre angeli che deve andare in tutto il mondo, e anche Satana qui ha le tre Rane che devono andare a radunare i re della Terra. Sono spiriti di demoni, abbiamo detto, che compiranno falsi miracoli. Sono una contraffazione dell'opera di Dio, che sarà compiuta sotto il vero influsso dello Spirito Santo, ma qua abbiamo false manifestazioni dello Spirito Santo. Quindi tramite queste influenze demoniiche Satana vuole radunare i re della Terra per combattere contro Dio nell'ultima grande battaglia di Armageddon. Sebbene la battaglia di Armageddon sia inserita qui nelle ultime sette piaghe, qui in versetti 13 e 14 ci parlano dei movimenti preparatori che si applicano anche a un periodo precedente alla chiusura del tempo di grazia. E quindi mentre Satana cerca di radunare il suo popolo per l'ultima battaglia, così anche Dio, finché c'è tempo, finché c'è il tempo di grazia, cerca di radunare il suo popolo perché possa incontrarlo quando tornerà. Il versetto 16 lo rileggiamo, dice, Ed egli li radunò in un luogo in ebraico detto Armageddon. Il nome Armageddon ha generato diverse discussioni, dispute in ambito cristiano sul significato, che cosa simboleggi veramente. Questo nome compare solo in questo versetto. Giovanni disse che questo era il nome ebraico, e ovviamente lo traslitterò qui nel greco. In ebraico la parola Armageddon è composta da due parole. Har significa montagna e poi abbiamo Megiddo, che è un luogo esistente. Lo potete leggere in diversi passaggi dell'Antico Testamento, Megiddo. La Bibbia ci parla della valle di Megiddo e poi ci parla anche delle acque di Megiddo. Però la Bibbia non ci parla mai di un monte di Megiddo. Armageddon è il monte di Megiddo. E quindi dobbiamo andare a vedere un po' dove si trovava la valle di Megiddo. Le acque che bagnavano la valle di Megiddo, il libro di Giudici ci dice che erano quelle del torrente Kishon. Il torrente Kishon è dove Elia uccise i falsi profeti di Baal e di Asherah, in quel famoso episodio quando Dio fece piovere fuoco dal cielo, sull'altare che Elia aveva costruito. E quindi quell'episodio aveva luogo sul monte Carmelo. Va da sé che il fiume Kishon, il torrente Kishon, doveva essere in qualche modo vicino al monte Carmelo, se Elia andò lì per uccidere i falsi profeti. Ed era anche quello il monte nel quale Dio aveva sconfitto le forze del male, rivelandosi come il vero Dio. Quindi a motivo della sua posizione geografica e del conflitto tra il bene e il male che fu combattuto su quel monte, voglio suggerirvi questa sera che il monte di Megiddo rappresenta, è rappresentato proprio dal monte Carmelo. E la battaglia di Armageddon perciò è un conflitto spirituale, proprio come si combatte un conflitto spirituale sul monte Carmelo, è un conflitto che aveva come suo centro l'adorazione. E quindi il monte Carmelo diventa un tipo del conflitto finale tra il bene e il male. E l'idea del radunarsi delle nazioni per la battaglia è presa da un passaggio dell'Antico Testamento, da Gioele capitolo 3. E all'avvicinarsi del giorno del Signore le nazioni, dice il testo di Gioele, si radunano nella valle di Josaphat, che è chiamata la valle della decisione, dove moltitudini devono decidere quale sarà il loro destino eterno. Stiamo vivendo tempi solenni nell'ultima generazione di viventi. Ogni persona sarà provata sulla base della predicazione del messaggio dei tre angeli. Il sabato, abbiamo detto, sarà il test e quindi saranno figurativamente radunate nella valle della decisione per prendere una decisione finale e definitiva nelle loro vite, per stare dalla parte di Dio oppure per schierarsi contro Dio e il suo popolo. Concludiamo con la settima piaga. L'Apocalisse 16, 17. Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal tempio del cielo, dal trono uscì una gran voce che diceva è fatto. E questa voce vi ricorderà quando Gesù sulla croce disse è compiuto. E quindi Gesù pronunciò queste parole al compimento della sua missione terrena. La vittoria finale nel conflitto tra il bene e il male era stata assicurata dalla vittoria di Gesù sulla croce. E quindi queste parole saranno ripetute poco prima del ritorno di Gesù. La settima piaga culminerà proprio col ritorno di Gesù. Andiamo a leggere i versetti seguenti a concludere il capitolo 16, versetti dal 18 in poi. Allora ci furono voci, tuoni e lampi e ci fu un gran terremoto tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai terremoto così grande e così forte. E la città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e Dio si ricordò di Babilonia la grande per dare il calice del vino della sua furente ira. E ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati e cade dal cielo sugli uomini una grossa grandine dal peso di un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio per la piaga della grandine perché la sua piaga era grandissima. Ci saranno voci, tuoni e lampi. Questo linguaggio è linguaggio di una teofania, cioè di un'apparizione di Dio perché Gesù apparirà sulle nuvole del cielo. Avete un linguaggio simile sul monte Sinai quando Dio apparve al popolo di Israele e anche quando Giovanni vide il trono di Dio in Apocalisse 4. Dice che ci sarà un terremoto tale che mai ci fu un terremoto simile nella storia umana. E l'effetto del terremoto viene descritto al versetto 20. Ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati. Questo passaggio parla chiaramente del ritorno di Gesù perché è parallelo al sesto sigillo nel quale si descriveva proprio il ritorno di Gesù, il cielo che si arrotolava come una pergamena. E dice Apocalisse 6,14 proprio il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Vedete che il linguaggio di Apocalisse 6 è parallelo a quello della settima piaga ma nel sesto sigillo abbiamo chiaramente la venuta di Gesù. I malvagi vi ricordate che chiedono di essere nascosti dalle rocce dall'ira dell'agnello. E qui quindi abbiamo un linguaggio parallelo. Questo terremoto sarà un cataclisma globale, sarà il ritorno stesso di Gesù e la venuta di Gesù sarà la punizione finale su Babilonia spirituale. Il testo dice che Dio si ricorderà di Babilonia nel senso che che la ripagherà per tutto il male che avrà fatto al popolo di Dio. E Babilonia sarà divisa in tre parti, aveva agito nell'unità nel perseguitare il popolo di Dio. Dragone, bestie, falso profeta avevano agito nell'unità ma saranno divisi prima del ritorno di Gesù. La loro unione sarà infranta una volta perduta dalla settima piaga. Torniamo adesso in conclusione sulle parole di Gesù che stanno nel mezzo della sesta piaga. È interessante che anche nel mezzo di questo capitolo così oscuro, così forte, parla dei giudizi di Dio, dell'ira di Dio che sarà riversata sul mondo, abbiamo un'esortazione di Gesù. La rileggo, Apocalisse 16, 15. Ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti per non andare nudo e non si veda la sua vergogna. Nel mezzo della preparazione per la battaglia di Armageddon troviamo un appello di Gesù al suo popolo perché non sia ingannato. Gesù proclamò beato chi veglia e chi custodisce le sue vesti, cioè chi è spiritualmente vigile, sveglio, con gli occhi aperti su quello che sta succedendo, ma anche con chi custodisce le sue vesti, cioè con chi dimora in Cristo e rimane rivestito, della sua giustizia, con chi persevera nella sua esperienza con Cristo. Il tema della vigilanza fu ricordato diverse volte da Gesù in relazione agli ultimi tempi e Gesù stesso aveva detto che sarebbe venuto come un ladro e anche qui in questo testo ce lo ricorda, ma sapete che Gesù verrà di sorpresa come un ladro per chi non avrà prestato attenzione ai segni dei tempi che egli ci ha dato. L'Apostolo Paolo scrisse in prima Tessalonicisi 5, voi stessi sapete molto bene che il Signore, che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte, ma poi aggiunge, ma voi fratelli non siete nelle tenebre così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre. Il giorno del Signore verrà come un ladro per gli ingiusti dell'ultima generazione, ma non per l'ultima generazione dei credenti. E quindi Gesù ci ha dato così tanti segni dell'imminenza della sua venuta, non per spaventarci, ma al contrario, per aiutarci a rimanere vigili, per aiutarci a capire in che tempi stiamo vivendo, per darci un'indicazione di quanto sia vicino il suo ritorno. Voglio leggervi in rapida successione tre testi di Gesù che parlano della vigilanza negli ultimi tempi. Luca 12, 37, Beate quei servi che il Signore troverà vigilanti quando Egli verrà. Matteo 24, 42, Vegliate dunque perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. E infine in Luca 21, 36, Vegliate dunque pregando in ogni tempo affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vegliate per essere riveduti degni di essere risparmiati e di scampare a tutte queste cose. Ma sapete? Non possiamo essere degni nelle nostre forze. Possiamo essere ritenuti degni solo se siamo rivestiti della giustizia di Cristo. Ed è per questo che troviamo i due elementi in questa disortazione di Gesù nel mezzo delle ultime sette piaghe. Beato chi veglia, chi è vigile, ma anche chi custodisce le sue vesti, chi rimane ancorato a Gesù, chi rimane in Lui rivestito dell'abito della sua giustizia. E quindi dobbiamo essere vigili e vegliare non solo in rapporto ai segni dei tempi, ma anche in riferimento alla nostra relazione con Gesù. E quindi dobbiamo custodire le nostre vesti affinché non si veda la nostra vergogna. Questo è un chiaro riferimento a quello che Gesù disse alla Chiesa degli ultimi tempi. Nella lettera di Laodicea vi consiglio di comprare da me delle vesti bianche, l'abito immacolato della giustizia di Cristo. Questa è una chiamata perseverare nel dimorare in Cristo. Saranno circostanze difficili che ci metteranno alla prova, ma qui c'è un invito a perseverare, perché possiamo perdere la nostra salvezza se trascuriamo la nostra relazione con Gesù. Ma una volta che siamo andati a Cristo, dobbiamo anche rimanere, continuare a dimorare in Cristo. Andare a Cristo è solo il primo passo nell'esperienza cristiana, nel cammino della salvezza, ma dobbiamo rimanere sulla via stretta, una volta entrati per la porta stretta. Anche l'Apostolo Paolo, e chiudo con questo testo, ha parlato dell'essere rivestiti di Cristo in relazione alla seconda venuta. Romani capitolo 13, sentite questo passaggio. E questo tanto più dobbiamo fare, conoscendo il tempo. Conosciamo il tempo che viviamo? E questo tanto più dobbiamo fare conoscendo il tempo, perché ormai ora che ci svegliamo dal sonno, poiché la salvezza ci è ora più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino, parla del giorno del Signore. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in immoralità e dissolutezza, non in contese ed inviglie, ma rivestitevi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Amici, il giorno è vicino e l'Apostolo qua ci esorta a vivere rivestiti del Signore Gesù, a mettere da parte la carne con le sue passioni, con i suoi desideri e ognuno di noi ha le sue lotte personali. Ma qua l'Apostolo Paolo ci invita a mettere da parte queste cose. Il giorno è vicino, rimaniamo saldi attaccati al nostro Signore Gesù, sapendo che se noi ci consegniamo a Lui tra le sue braccia, Egli non ci lascerà andare, ma anche noi dobbiamo decidere di continuare a dimorare in Cristo. E questo è il tuo desiderio? Questo è anche il mio desiderio, di scegliere di dimorare in Cristo. Siamo fragili, siamo peccatori, ma per la grazia di Dio possiamo essere trasformati, possiamo ricevere da Dio la perseveranza per continuare a dimorare in Cristo, a custodire le nostre vesti, a essere vigili, svegli spiritualmente, con gli occhi aperti su quello che sta succedendo nel mondo, perché il giorno è vicino. Preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo per le profezie che ci hai dato nella tua parola, non per spaventarci, ma piuttosto per consolarci, per farci capire che i tempi sono maturi, che il giorno è vicino, in modo che non siamo disorientati come gli altri, sui quali il giorno del Signore verrà come un ladro, ma che possiamo avere gli occhi aperti, vedendo che queste cose si stanno addempiendo una dopo l'altra. Ci sono ancora alcune cose nel quadro profetico che non si sono ancora addempiute, ma ti ringrazio che tu a grandi linee comunque ci hai dato il susseguirsi degli eventi e possiamo capire dove siamo nella storia. Padre, come Gesù ci esorta qui, vogliamo chiederti di mantenerci sobri, svegli, con gli occhi ben aperti e soprattutto che possiamo decidere di dimorare in Cristo, di custodire le nostre vesti, di rimanere rivestiti del Signore Gesù e della sua giustizia. La carne ci tira da un lato, ma tu dall'altra parte ci attiri con il tuo spirito, verso la croce, perché possiamo rimanere al sicuro tra le braccia di Cristo. Questa è la mia preghiera per me, Padre, e per chiunque mi sta ascoltando, che possiamo veramente rimanere, decidere di rimanere giorno dopo giorno. Succeda quel che succeda, ma di rimanere nelle braccia forti e sicuri di Cristo. Ti ringraziamo perché sappiamo che tu sei in grado di rispondere a questa preghiera e di fare in modo che questa sia anche la nostra esperienza. Ti abbiamo chiesto ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ci benedica e ci mantenga saldi. Ci vediamo una volta prossima. Grazie.